Buon pomeriggio e ben ritrovati, è l'appuntamento del martedì delle ore 14, l'appuntamento con la prevenzione, con la medicina, con la salute, con il benessere. L'argomento di oggi è un argomento che riscuota un po' di riservatezza, un po' di vergogna perché quando parliamo di dolore anale c'è un po' la difficoltà ad andare dal proprio medico e lamentare questo sintomo che è un sintomo invalidante, noi in medicina diciamo che è invalidante perché rende difficile anche i rapporti sociali, la normale vita quotidiana, per cui il primo invito è quello di andare sempre dal medico, il medico abituato ad ascoltare questi sintomi per cui non abbiate vergogna, parlatene. Abbiamo la fortuna ancora una volta di avere il professor Domenico Mascagni, chirurgo generale del poliglinico Umberto I dell'Università di Roma Sapienza, che viene a dirci quali sono le cause più frequenti che generano questo sintomo veramente fastidioso. Per cui non andate via perché tra qualche istante entreremo nel vivo di questo argomento che credetemi riguarda un po' tutti. Allora non togliamo neanche un secondo a Domenico Mascagni, Domenico perché sono tanti anni che io e Domenico lavoriamo insieme al poliglinico Umberto I e tutti voi insomma lo conoscete, già stato ospite di Capire per Prevenire. Grazie Domenico di aver accettato nuovamente e parliamo di dolore anale. Vi ricordo sempre che avete l'opportunità di fare delle domande ai nostri ospiti per cui non fatevi sfuggire questa occasione, quella di fare delle domande in diretta al professor Mascagni, chirurgo generale, che si occupa in modo molto meticoloso alla chirurgia proctologica per cui è una bella occasione, non fatevela sfuggire. Allora Domenico, dolore anale, diamo una definizione innanzitutto per il dolore anale, fai come vuoi, tanto te la puoi condurre come vuoi la trasmissione. Non è che ci siamo preparati niente, abbiamo deciso insieme con il professor Arceri di trattare questo argomento, più che non di parlare di emorroidi, di ragade, di fistole, cioè di una patologia, di parlare di un sintomo. Quali sono i sintomi per cui il paziente va dal proctologo, che è lo specialista, che si occupa della parte finale, terminale, proctus, del tratto intestinale, quindi l'anoretto. I sintomi principali sono o il sanguinamento, che è sempre un sintomo eclatante, oppure il dolore anale, mi viene da dire poi anche la comparsa di una tumefazione, cioè qualcosa di irregolare che troviamo nella regione anale e perianale. Certamente il dolore è sempre una cosa che porta, un sintomo che porta il dolore a parlarne con il medico, sarà poi il medico di base o il medico che segue il paziente a consigliare eventualmente uno specialista. Quello che diciamo subito come primo punto è che il dolore anale può intervenire come sintomo da solo o accompagnato al sanguinamento, cioè alla retorragia o dematochezia, o alla comparsa di una tumefazione in regione anale e perianale, o a prurito o ad altre manifestazioni che comunque fanno notare al paziente che c'è qualcosa di diverso in regione anale e perianale. Parlarne con il medico è soprattutto essenziale, irrinunciabile, l'esplorazione digitale dell'anoretto proprio per andare a fondo e andare a analizzare questo sintomo. Dunque stiamo parlando di un sintomo, un sintomo che poi può essere associato ad alcuni segni, come vi stava spiegando il professor Mascagni. Le cause adesso le vedremo, ne vedremo, possono essere tantissime. È sicuramente una chirurgia protologica. Volevo soltanto per una questione mia, è un vizio mio. Il chirurgo protologo non esiste, esiste il chirurgo generale che poi si dedica particolarmente alla protologia, come il professor Mascagni. Poi ci sono tanti protologi che magari non sono neanche chirurghi generali, per cui per definizione il chirurgo protologo è un chirurgo generale, specialista in chirurgia generale. E questa è una cosa a cui tengo moltissimo. Questo anche per dirimere molti dubbi. Allora, Domenico, veniamo incontro, intanto vedo che sono già più di venti persone in collegamento in live, in diretta con noi, per cui se volete non vi accalcate tutti alla fine a fare domande, perché poi non riusciremo a rispondere. Se c'è qualche dubbio o qualcosa non vi è chiaro nell'esposizione, non c'è niente di meglio che farci assolutamente delle domande. Allora, abbiamo visto Daniele in regia, che ringrazio così come ringrazio Maria Elena Leggeri in redazione, buon pomeriggio ad Angelina e buon pomeriggio anche a Mena, che ci danno i saluti, quelli che sono i sintomi. Vogliamo già entrare nel merito delle cause? Come vuoi fare? Allora, innanzitutto, quello che hai detto te è giusto, non esiste lo specialista in proctologia, tantomeno in colon proctologia. C'è stata una battaglia in passato, sapete che esiste lo specialista urologo, esiste lo specialista di chirurgia toracica, ma non esiste uno specialista in colon proctologia. Noi con il professor Arcieri abbiamo anche un master di secondo livello in colon proctologia, proprio per prepararci il più possibile a questa branca, cioè a questa specialità che non esiste, come diceva Ben Arcieri, fa parte della chirurgia generale o della gastroenterologia, ma noi diciamo più per la chirurgia generale, ma non essenzialmente è fatta di chirurgia. Quello che volevo dire è che non si va dal medico specialista per un dolore anale o per un sanguinamento per essere operati, ma per essere valutati, per fare un percorso diagnostico e terapeutico e soltanto in un 5-10% dei casi si ricorrerà alla chirurgia. Ecco, questo bisogna dirlo bene col paziente, non deve avere paura di andare dallo specialista, lo specialista non opera il paziente, lo valuta, lo valuta nella sua interezza, cioè con un atteggiamento olistico e dopodiché andiamo a fare un trattamento terapeutico che sarà prima sul cambiamento dello stile di vita, poi eventualmente sulla terapia medica e solo come ultima spiaggia un trattamento chirurgico. No, perché sì, è bellissima questa cosa che ha detto Domenico, cioè si pensa che andare dal chirurgo significa per forza essere operati. Il chirurgo che ha una grande capacità clinica, cioè riesce ad inquadrare il paziente, raramente porta il malato in sala operatoria. Prima cerca sicuramente una tattica, una strategia medica, comunque terapeutica, che non sia chirurgica, perché non è detto che il chirurgo abbia sempre piacere a portare il paziente in sala operatoria. Comunque, io ti volevo chiedere una cortesia, perché nella mia esperienza anche di chirurgo generale, io noto e vorrei che tu stressassi un pochino uno dei sintomi associati. Daniele, rimetti i sintomi, che è un po' il terzo o il quarto, adesso non mi ricordo, il pruritonale. Questo sintomo è un sintomo che è spesso, veramente spesso lamentato da un paziente. Vogliamo stressare un po' questo sintomo? Allora, il pruritonale è un sintomo e può venire da molte cause. Per esempio, noi sappiamo che nell'ano, all'interno dell'ano c'è una mucosa e fuori c'è una cute. Il prurito quando può intervenire? Quali sono le cause? Allora, se per esempio c'è una ragade, che è una piccola ferita all'interno dell'ano, ci può essere la produzione di una piccola secrezione. Questa secrezione può essere una secrezione sporca, perché viene dall'ano, e quindi può dar vita a un prurito anale. Se per esempio abbiamo delle piccole pliche di cute, cosiddette marischi anali o skin tags, e quindi fanno come una lingua che sta fuori dalla bocca e provocano uno scivolo di questo materiale, il cosiddetto soiling, il materiale della regione perianale. Se per esempio uno lavandosi insiste troppo e si crea delle piccole lacerazioni, delle piccole erosioni della regione perianale, questo può creare delle sovrinfezioni batteriche che danno prurito. Se uno lascia troppo bagnata, per esempio, sono tutte cose che nessuno ci insegna, ma sono molto importanti. Poi il prurito anale può venire anche perché ci sono delle micosi o delle altre patologie perianali di interesse dermatologico. Ecco, qui il proctologo non deve essere arrogante, molta umiltà sempre, un discorso anche polispecialistico, ricorrere eventualmente alla vita specialistico dermatologico per vedere se c'è sotto una causa diversa da quella di interesse proctologico ma che sia più di pertinenza con lo specialista dermatologo. Quindi può essere anche questo. Ma il prurito anale non va, per esempio, trattato subito con una crema al cortisone, cioè con creme che tolgono il sintomo. Il sintomo va tolto ma prima va capito perché questo sintomo c'è. Eh beh, direi che prima di fare una terapia bisogna perlomeno cercare di avere almeno, cercato come dicevo, di azzeccare la diagnosi. Allora, parliamo di dolore anale, no? Ma il dolore anale non è sempre lo stesso. Ci sono momenti in cui il dolore anale arriva e poi scompare ed è legato forse a qualcosa che si fa. O è un dolore anale che compare così senza nessuna causa. Oppure è un dolore anale che aumenta, poi decresce, poi aumenta e poi decresce. Allora cerchiamo di inquadrarlo perché è difficile, non è una cosa facile. Voi pensate che sia semplice. Allora, parliamo un po' dei vari tipi di dolore anale. Allora, noi non ci siamo nemmeno parlati prima, per cui le cose stanno venendo su e forse anche meglio, così come ci sentiamo al momento. Ecco, questo è molto importante, anche perché uno sotto, diciamo, la parola dolore anale ci sono una serie di dolori. Per esempio, mi viene da dire, le emorroidi. C'è gente che non ha mai sofferto di emorroidi, ha emorroidi addirittura di quarto grado. Che vuol dire di quarto grado? Che hanno perso il diritto di domicilio, cioè emorroidi che ormai vivono al di fuori dell'ano e non rientrano nemmeno se aiutate dallo stesso paziente. Ecco, può avere emorroidi di quarto grado che se non sono complicate non danno dolore. La ragade può dare dolore, può dare sanguinamento, ma può esserci una ferita cronica non riacutizzata che non dia dolore. Poi i dolori, come diceva il professor Arceri, sono molto diversi. Perché per esempio c'è un dolore che si esacerba, cioè diventa più importante con la defecazione. Mi viene da pensare per esempio a una raga deacuta, per cui quando va di corpo e va di corpo in maniera più dura, cioè un pochino più estetico, è chiaro che può ferire la mucosa dell'ano. Se questa mucosa dell'ano si apre, cioè quindi si crea una piccola ferita dentro, quando c'è il passaggio delle feci, specialmente se questo è traumatica, può dare dolore. E questo è un dolore sacerbato alla defecazione. Se però un emorroide si complica, quali sono le complicanze di un emorroide? Perché hanno emorroide sanguini. Quando è che dà dolore un emorroide? In genere quando si trombizza. Uno ha tanto paura della parola trombosi, adesso col covid qualsiasi persona aveva il covid e diceva io ho avuto una trombosi perché ho avuto il covid. No, la trombosi emoridaria si ha, vedete, le emorroidi fanno questo discorso qui, cioè escono fuori durante la defecazione e possono rientrare dentro. Quando rimangono fuori e vengono chiuse dagli sfinteri, vedete come entra il sangue arterioso, non esce quello venoso e quindi il sangue si coagula all'interno e si crea una trombosi. Questo dà un dolore che non viene aumentato dalla defecazione ma che dura magari per qualche giorno. Quindi qui bisogna intervenire subito per cercare di risolvere la trombosi. Prima sempre con una terapia medica e poi eventualmente anche ambulatorialmente con una terapia chirurgica. Poi esiste tutto un campo, senza entrare nello specifico, di dolori che vengono definiti anali ma sono dolori pelvici, dolori dovuti a dei nervi che stanno nella pelvi, cioè in questa casa in cui è alloggiato l'anoretto e sono dolori dovuti a un nervo che per esempio può essere il nervo pudendo, cioè le pudendopatie. Sono dolori che poi interessano tutto il compartimento della pelvi, quindi abbiamo le tre strutture, la parte diciamo urinaria e vescicale anteriormente, nella donna la parte della vagina e dell'utero e nell'uomo la parte dell'anoretto, cioè nell'uomo e nella donna la parte dell'anoretto posteriormente. Poi abbiamo un dolore che per esempio mi piace qui citare che è quello della proctalgia fugax, come dice il nome è un dolore dell'ano, proctalgia fugax, cioè fugace, è un dolore che viene in seguito a stress, in seguito, può dire anche in seguito a rapporti sessuali ma soprattutto nei momenti di stress, soprattutto la notte che dura qualche minuto fino a un massimo di venti, precede spontaneamente, è come un crampo di una gamba, è un crampo dei muscoli della pelvi e dello sfintere che si risolve spontaneamente e quindi in questo caso basta tranquillizzare il paziente per arrivare a una soluzione di questo sintomo. Quindi dolore anale, un ombrello grande che raccoglie diverse patologie e diverse cause. Buongiorno anche a Giovanna Lopiccolo che si è collegata e ci manda i saluti, così come siete sempre in aumento in diretta qui sul canale 18 del Digitale Terrestre, ma soprattutto sui canali social di Capire per Prevenire e di Teleambiente che ringraziamo sempre per condividere la nostra trasmissione che si chiama Capire per Prevenire. Avete visto come Domenico Mascagni, chirurgo generale del poliglionico Umberto I, ci abbia spiegato quali che possono essere alcune cause che fanno insorgere questo sintomo dolore anale. Allora, se Daniele ci passa la diapositiva dove ci sono le cause, vediamo quali possono essere le altre cause che possono creare questa situazione sintomatologica importante. Allora, qui abbiamo messo alcune cause di dolore anale. Può venire, per esempio, ne abbiamo già discusse due, cioè la raga di anale, che è questa ferita della parte terminale dell'ano, che in genere interviene posteriormente, cioè perché posteriormente è un locus minor resistenza, cioè una parte che si apre di più perché è meno vascolarizzata. Abbiamo detto quando le emorroidi si complicano, soprattutto la trombosi emorroidaria. Quello di cui non abbiamo parlato, ma che può essere una causa di dolore anale anche molto importante, è quello di avere un ascesso perianale e in questo caso molto spesso la mamma dell'ascesso è una fistola perianale. Cos'è una fistola perianale? È un tunnel, è un tunnel che si ha con un orifizio interno, cioè un orifizio di entrata che in genere è nell'ano a circa due centimetri, cioè tra l'ano e retto due centimetri e mezzo, tra l'ano e retto a livello della linea cosiddetta linea pettinata. Questo orifizio interno, poi c'è un tunnel e in genere c'è un orifizio esterno. Questo orifizio esterno, questo orifizio esterno può uscire del pus o del sangue, in questo caso è facile fare la diagnosi di fistola e poi di ascesso perianale e questa è una causa di importante dolore e devo dire tra ragade, emorroidi e fistola che la fistola e l'ascesso è sicuramente una delle patologie che, al contrario delle altre, deve subito andare dal chirurgo, cioè l'ascesso e la fistola necessitano di un trattamento chirurgico. Chiaramente all'inizio si può fare una terapia antibiotica, ma poi molto spesso sono patologie che debbono essere operate. Abbiamo messo anche i condilomi soltanto per mettere un'altra patologia, ma non perché il dolore anale venga fatto, venga diciamo il sacerbato, venga dato l'inizio da dei condilomi, ma perché quando arriva un paziente col dolore anale, noi non dobbiamo fargli passare il dolore, lo dobbiamo studiare. Se è un paziente che ha più di 50 anni e ha un dolore anale e ha una ragade, comunque dobbiamo consigliargli una colonoscopia. Perché questo? Perché la colonoscopia ci permette di vedere se quel paziente che ha un dolore anale, una ragade anale, magari ha anche un polipo anale, che potrebbe essere una lesione precancerosa per poi impedire che si vada verso un cancro del colon o del retto, oppure può avere una neoformazione del colon retto. Quindi la colonoscopia non va dimenticata, non dobbiamo focalizzarci sul dolore e sulla possibile causa del dolore, ma guardare il paziente nel suo insieme, quindi vedere anche queste patologie che possono avere un'origine virale, il cosiddetto papillomavirus dell'ano, che oggi viene studiato sempre di più con un semplice tampone anale. E poi dobbiamo escludere, specialmente nelle persone che abbiano una certa età, ma non solo, sempre, se ci sia un tumore dell'ano del retto. Ricordatevi che l'esplorazione digitale del retto è una visita che dura qualche secondo, massimo 10-15 secondi e ci fa vedere con una semplice esplorazione a costo praticamente zero, tumori della regione perianale o dell'ano, ce li fa escludere, tumori del canale anale, del retto. Nell'uomo possiamo avere un'idea di quella che è la parte periferica della prostata e possiamo anche vedere la parete posteriore della vagina. Un esame che dura qualche secondo. Diceva il professor Arceri, pudore in questa zona. Ecco, io farei un passo per scavalcare questo pudore e per avere il coraggio di fare un'esplorazione semplicissima, che se fatta bene non dà nessun tipo di fastidio e che può dare molte informazioni importanti per il paziente. Allora, domenico, mancano esattamente 10 minuti perché il tempo purtroppo vola. Io starei anche tempo ad ascoltarti perché è interessantissimo quello che dici e vedo che la gente ti sta ascoltando perché non scende mai il numero delle persone in diretta. Stanno facendo poche domande perché evidentemente è talmente chiaro quello che dici che non hanno bisogno di fare domande. Siamo sempre comunque qui pronti a rispondere. Allora avete visto quali sono le cause e soprattutto le caratteristiche del dolore. In questi 10 minuti io userei, se tu sei d'accordo, un 2-3 minuti per vedere come si fa la diagnosi, ma gli ultimi 5 minuti, qualcosa di più, utilizziamoli per vedere come lo stile di vita interferisce con questo sintomo, con queste patologie e quali sono la prevenzione, come si fa prevenzione. Allora, Daniele, passa subito la diapositiva che è relativa alla diagnosi. Vediamo quali sono le indagini. Un po' Domenico già ha parlato dell'importanza della coloscopia, come fatto anche preventivo, ma vediamoli con attenzione. Allora, innanzitutto c'è la visita chirurgica con l'irrinunciabile momento dell'esplorazione digitale del retto. Cosa che il medico di base di solito non fa, non si capisce perché il medico di base tende a non visitare, a non fare questo tipo di visita al paziente e manda sempre il paziente, non so se capita anche a te, allo specialista. Noi non siamo gelosi se il medico di base ogni tanto fa questa visita. Sono d'accordo assolutamente con il professor Ceri, però già che il medico di base invi dal proctologo, lo trovo già un momento, diciamo, positivo. Trovo invece negativo quando per telefono si dà una terapia senza visitare il paziente, magari il sintomo viene coperto e non si va a vedere qual è la vera patologia. Quante volte ci è capitato di pazienti che per anni sono stati trattati con una terapia medica, mai visitati e poi magari avevano un tumore dell'ano e del retto. E' la stessa cosa che mi auguro che sia non successa a Marilena, Daniele, se lo metti in diretta, la domanda che fa Marilena, la quale dice che per l'emorroide usa il daflon, speriamo che non gli sia stato prescritto per telefono o ancor peggio sia stato il farmacista a consigliarla, cos'altra caratteristica che io non gradisco che il farmacista dia una terapia senza aver visitato il paziente. Quante volte si dà una terapia pensando che sia un'emorroide, domenico, e invece sotto c'è una patologia ben più importante. Ha detto benissimo Stefano, Marilena, il daflon è sicuramente una diosmina ottima, quindi un'ottima terapia per l'emorroide, però questo non deve portare a battezzare un sintomo con una diagnosi, cioè emorroidi, senza essere visitato. Se è stata visitata e hanno fatto una diagnosi di emorroidi, la terapia con il daflon nel giusto dosaggio che il medico le avrà indicato va sicuramente bene, però sicuramente va visitato il paziente e un'altra cosa, il paziente va controllato a distanza per vedere che il sintomo sia finito e che la situazione sia normalizzata. Quanti pazienti che hanno un dolore per una raga di anale, gli viene data una terapia, la fanno per 20 giorni, guariscono, tra virgolette, la sospendono e dopo 15 giorni gli riprende. Quindi la terapia va seguita con il medico curante o con il medico di base, va continuata fin dopo la guarigione sintomatologica in maniera che si stabilizzi. E soprattutto, come ha detto Stefano e torniamo Daniele sulle diapositive, va usata questa occasione della visita per fare, quando serve quasi sempre, un'anoscopia che è un semplice prolungamento dell'occhio, del dito con l'occhio, cioè quello di vedere nell'ultima parte dell'ano e del retto, vedere proprio deviso direttamente con l'aiuto di un semplice anoscopio che è lungo 8-9 cm e ci permette di vedere all'interno dell'ano e la parte di stare del retto. Certamente più completa è l'anoretto-coloscopia. La coloscopia di scuola, della nostra scuola universitaria, è sempre completa. Mai fare una coloscopia che arrivi al colon sinistro e non ci fa vedere il destro, perché altrimenti può portare nel paziente una falsa sicurezza. Io l'ho già fatta, la coloscopia non c'è niente, non devo fare più nulla. Quando si dice ho fatto la coloscopia, devo essere arrivato fino al cieco, cioè l'ultima parte del colon e alla valvola eliocecale. Qualche volta si vede anche l'ultima parte dell'io. Questo è molto importante, soprattutto in un paziente per scongiurare la presenza di polipi, tumori colorettali e che possono essere associati anche a un dolore anale e poi anche per le malattie infiammatorie intestinali. L'ecografia endoluminale, di cui ci siamo occupati molto, perché? Perché l'ecografia non ci fa vedere come l'anoscopia all'interno dell'ano, ma anche al di fuori, cioè nel contesto della parete anale rettale, quindi parete del retto, sfinteri anali interno, che è quello involontario ed esterno, che è quello esterno volontario, e poi ci fa vedere anche le fosse ischiorettali e pelvirettali, cioè al di fuori dell'ano. Ancora meglio ce lo fa vedere questo la risonanza magnetica, esami irrinunciabili in alcune situazioni come per esempio i voluminosi ascessi ischiorettali e pelvirettali, cioè ascessi complessi. Ancora un altro esame importante a questo livello è la manometria, che ci fa vedere le pressioni all'interno del canale anale, dello sfinter interno e dello sfinter esterno. E poi, quando prima parlavamo dei condilomi, cioè delle patologie ad origine virale, ad origine del papillomavirus, fare un tampone anale ed oggi si tende a fare anche un'anoscopia ad alta risoluzione, che ci fa vedere le zone a rischio da bioptizzare, da togliere o da diatermocoagulare, cioè da bruciare. Allora, adesso passiamo alla parte più importante, che è un po' i consigli che il professor Mascagni vi dà per condurre una vita, diciamo, che possa fare anche prevenzione. Per quanto riguarda comunicazione e servizio, la domanda di Angelina Seta, se torni indietro con il video, che tanto rimarrà per tutta la vita sui canali social, vedrai che il professor Mascagni ha spiegato ampiamente, in modo esaustivo, se le emorroidi danno bruciore e quando è che danno bruciore. Se vuoi andare... Una parola gliela diciamo a Angelina. Sì, gliela possiamo dire, però siccome manca pochissimo, purtroppo vedi che il tempo... Sei tu il direttore d'orchestra. E no, mancano, ti dico, tre minuti e mezzo. Parliamo dell'ultima diapositiva, Daniele, che è fondamentale, la cosa più importante. Vai. Ecco, come riprendiamo quello che abbiamo detto all'inizio, non si va dal proctologo e dal chirurgo proctologo per farsi operare. Si va per farsi visitare dallo specialista e cercare di risolvere il dolore anale, le patologie e la sintomatologia associate, che hanno a origine una patologia, in maniera diciamo più semplice possibile, cioè cambiando per esempio lo stile di vita, cioè cercando di dare dei consigli al paziente molto semplici. Per esempio si sa che quando un paziente è stitico può avere una maggiore possibilità di avere ferite all'interno del canale anale, cosiddetta ragade di cui abbiamo parlato. E tutti sanno, dicono, allora devo mangiare più verdure. Attenzione a questo, sì, le fibre sono assolutamente importanti, ma è essenziale che queste fibre siano supportate da un apporto idrico, cioè da bere, si dice sempre che una persona adulta deve bere circa due litri di acqua al giorno, di più se fa sport e in estate. Quindi questo è estremamente importante, acqua, fibre, nella fase acuta minimizzare alcol piccante speziato. Importantissimo. Noi non siamo fatti per stare davanti a un computer tutto il giorno. Noi dobbiamo muoverci, camminare. Questo è estremamente importante perché il movimento del colon dipende anche dal nostro movimento. Lo dico soprattutto per le donne che hanno una maggiore tendenza alla stipsi. Quelle donne che fanno sport, che si muovono di più, tendono a minimizzare questo sintomo. Quindi è estremamente importante, sembra una banalità, ma è estremamente importante. Poi Stefano ci tiene molto che si vada a sottolineare questi aspetti che sono fondamentali, soprattutto come diffusione. Ridurre, per esempio, il tempo sul vater. Quanti di noi, con due figli, tre figli, quattro figli, si chiudono in bagno, prendono un libro, o il telefonino adesso, ai tempi miei c'era il libro, o il giornale, e stanno un'ora, un'ora e mezza. Sbagliatissimo questo per un uomo, ma soprattutto per una donna che ha una maggiore tendenza, soprattutto la donna che ha avuto figli, cioè la donna multipara, comunque pluripara, perché può favorire anche un prolasso pelvico e rettale. Quindi ridurre il tempo sul gabinetto, non rinviare lo stimolo, questo è importante. Noi abbiamo, magari andiamo di corpo una volta al giorno, però abbiamo due, tre, quattro onde defecatorie al giorno. Ecco, assecondarle, non diventare sordi, non demandarle sempre, chiaramente compatibilmente con gli impegni sociali, ma cercare di assecondare queste onde defecatorie. Se uno è andato di corpo la mattina e ha uno stimolo il pomeriggio, può andare tranquillamente, deve andare tranquillamente. Ci sono poi dei prodotti che aiutano ad andare in bagno, quindi dei lassativi, ma anche dei stool soft, cioè degli ammorbidenti, e tra questi naturalmente diciamo l'acqua e le fibre. Abbiamo per le emorroidi, come diceva prima Angelina, mi sembra, delle diosmine, cioè dei vasoprotettori che proteggono e aiutano a far funzionare meglio la circolazione venosa delle emorroidi. Abbiamo delle creme, creme a base di acido ialuronico, di aloe, che tendono a riparare piccole ferite anali e perianali, quindi sono molto importanti sia nella patologia sia nel post chirurgico. E poi abbiamo la terapia chirurgica, di cui oggi non parliamo, ma che deve essere distretta, questo ci tengo a sottolinearlo in chiusura, a un 5-10% dei pazienti. Solo quando serve, solo quando, e Stefano Arceri, penso che lo sappiamo, lavoriamo insieme da più di 30 anni, si comporta come me, solo quando opereremmo noi un nostro fratello, una nostra sorella, così dobbiamo operare un paziente. Beh, mi sembra la cosa più bella che vi ha detto il Domenico Mascagni. Innanzitutto, che cosa è la cosa più importante? 5-10% di interventi chirurgici sono tutte le persone che si rivolgono al chirurgo proctologo per essere... Forse anche meno. Anche meno, sicuramente, cioè significa che non è più giustificata la paura. Andate a farvi visitare. E tra l'altro, se siete a Roma, c'è un servizio di chirurgia proctologica, un ambulatorio di proctologia all'Umberto I, che funziona molto bene, di cui è direttore il professor Mascagni. Per cui, tranquillamente, potete utilizzare il CUP regionale e andare a farvi visitare nell'ambulatorio di proctologia. Grazie Domenico di essere stato un'altra volta qui con noi ed aver spiegato in modo così semplice, così chiaro, un argomento così tanto difficile da spiegare con termini così semplici. Ci prometti che tornerai, mi auguro. Assolutamente sì, tanto noi non abbiamo difficoltà a prendere appuntamento io e te. Ci vediamo tutti i giorni. Allora Domenico ci ha promesso che tornerà e invece per quanto riguarda Capire per Prevenire vi do appuntamento, se volete, domani mattina alle 11.30 con Capire per Prevenire mattina condotto dal professor Andrea Arceri. Come sapete il mercoledì mattina si parla delle patologie un po' della colonna, un po' muscolare, delle articolazioni. Per cui se volete domani mattina alle 11.30 potete tranquillamente seguire Capire per Prevenire mattina. Arrivederci a tutti, appuntamento invece con Capire per Prevenire condotto da me a martedì prossimo alle ore 14. Grazie a tutti. Grazie a tutti.